Due passi dal porto e dunque dal mare, Europa e Mediterraneo sono nel DNA di questo luogo che aspira a promuovere l'incontro tra chi guida le nazioni e il dialogo, Giacopoli. Quello che vuol dire essere qui stasera, vuol dire crescere nell'ottica di essere diversi, di essere migliori, di cercare sempre, anche nello sport, che deve insegnare valori importanti. Qui è praticamente, come mi raccontava il professore prima, è proprio la culla dei valori, di quelli che sono i valori veli della vita. Alcuni cerchiamo anche noi con lo sport di trasmetterveli con la disciplina e sicuramente tanti altri imparati da scuola, da casa. E qui siamo proprio forse nel posto migliore per poter iniziare una nuova stagione con dei valori importanti che tra tante cose anche lo sport sa dare. Grazie. Passerei la parola ad Albi per la premiazione. Ci sono già... Aldo Brancaccio. Grazie per essere qui per noi e per ricordare sempre queste grazie. Secondo classificato, Smander Stefano. Primo classificato, Buffardi Andrea. Grazie a Giorgia. Mi approfittiamo per premiare anche Gagari Lavinia, che non è potuta venire ieri alla premiazione della Pappacambo. Brava. 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 Sì, mi chiediamo la neve. Speriamo che c'è un ultimo buon Natale. Ci vediamo in pista con la prima gara che mi sembra da calendario sia il 5 per tutte le categorie. Grazie a tutti. Sì, approfittiamo per farvi i buon Natale. Grazie. 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 Grazie.